Il ritorno di Massimo Rastelli sulla panchina dell'US Avellina ha generato entusiasmo tra le file dei tifosi irpini con la speranza che il tecnico possa risollevare le sorti del club bianco-verde, attualmente quintultimo in classifica. Rastelli, dopo il suo addio alla piazza Irpina, avvenuto il 12 giugno del 2015 a favore del Cagliari, dopo tre anni ricchi di successi e di soddisfazioni, adesso dovrà risollevare le sorti di una squadra priva di identità. Il ritorno dell'allenatore di Pompei è significativo per l'ambiente avellinese, a lui toccherà il compito di risollevare la squadra costruita da Enzo De Vito, attualmente sedicesimo in classifica al 39esimo posto per peggiori risultati a livello europeo. Rastelli avrà modo di parlare da vicino ai suoi giocatori e di definire il piano di gioco per il prossimo futuro, cercando di sfruttare al massimo le qualità dei singoli, cercando di attuare un sistema di gioco affine alla caratteristica dei giocatori rosa. Il primo è il 4-3-1-2, fatto nel campionato di Serie C 2012-2013, che vedeva De Angelis nel ruolo di trequartista dietro le due punte. Lo stesso modulo, ma con una variante, fu riproposta anche a Cagliani con il 4-3-2-1, con due trequartisti, Gio Pedro, Farias o Sau, dietro il centroavanti, normalmente Borriello oppure Sau, un centrocampista centrale, Taxidis o Di Gennaro e due mezzali, Barrella, Padoin, Dossena, Ionita e Isla. Il secondo è il 3-5-2 di Stile Contiana, attuato nel campionato cadetto, che ha permesso a determinati elementi di esprimersi al meglio, fra tutti Zappa Costa, che si consacrò nel campionato di Serie B. Adesso, arrivata in Irpina, dovrà comprendere quale dei tre moduli attuare, per sfruttare i calciatori a disposizione e anche per non creare ulteriori confusioni in campo. In effetti, il gruppo bianco-verde è stato costruito per esprimersi con il 3-4-3, per poi cambiare dopo due giornate nel 4-3-3 che tutti noi conosciamo. Adesso, però, il trainer dovrà comprendere cosa fare per sfruttare al meglio i giocatori a disposizione. Il 3-5-2 andrebbe a limitare l'utilizzo degli esterni offensivi come Russo, Ceccarelli, Mikoski, Canutè e Di Gaudio, mentre il 4-3-1-2 andrebbe a togliere un tassello in difesa. Ecco che il mister dovrà avere le idee ben chiare su cosa fare e su chi sacrificare in mezzo al campo per far sì che l'Avellino possa concentrarsi per lontanarsi dalla zona play-out e tornare a navigare verso lì di più sicuri e ambiti. I primi allenamenti aiuteranno a comprendere le intenzioni del mister e non ci tocca altro che vederlo all'opera.